Buona la prima per gli allievi della scuola di teatro La Volpe Bianca che ieri sera hanno messo in scena il loro primo lavoro. Lo strano caso della signora Wellington, interamente prodotto, scritto e sceneggiato da Sasha Solinas, Giorgia Vicentelli, Enrico Corrias, Anna Spiri, Stefano Fois, Lorenzo Chighine, Emma Sanna, Andrea Piga e Antonio Loriga. Una comedy in due atti che ha suscitato l'irralità degli spettatori. Grande soddisfazione per il regista Andrea Desi che dirige la scuola di teatro e arti creative La Volpe Bianca. Aperta un corso triennale per aspiranti attori dagli 11 ai 17 anni e strutturata in moduli. Lavoro dell'attore su se stesso, tecniche di improvvisazione strutturata, teatro danza, storia del teatro e della cinematografia. Gli allievi vengono accompagnati dalla conoscenza del linguaggio teatrale, da docenti per ciascun modulo e sistemi innovatori che permettono la crescita dei ragazzi attraverso il piano fisico ed emozionale. Si parte alla composizione del canovaccio partendo semplicemente da un'idea per arrivare a una vera e propria narrazione che unita al lavoro sul corpo e alle emozioni accompagna i giovani attori e attrici al risultato finale che è lo spettacolo. La risposta del pubblico ieri sera ha sottolineato che la strada è quella giusta.